In attesa della Formula 1 che correrà stasera alle 9 e mezza sul circuito di Miami parliamo di Superbike dunque appuntamento canonico delle 19 della domenica con il Racing Podcast parliamo appunto di Superbike round di Barcellona quarto appuntamento del mondiale delle derivate dalla serie con però ancora una volta lo stesso copione che abbiamo visto ad Assen che abbiamo visto a Phillip Island e che abbiamo visto praticamente in Indonesia tranne che in una gara soltanto. Bautista domina in lungo e in largo anche se in questo caso era ampiamente prevedibile ennesima tripletta per il pilota spagnolo 43 vittorie in carriera in Superbike eguagliato Neoryuki Haga e adesso il mondiale è sempre più vicino hanno detto che siamo comunque al quarto round completato su 12 quindi solo un terzo di stagione. C'è dall'altra parte un top al gas da Dioglu sontuoso che limita clamorosamente i danni e per il resto una grande tonnara per la terza posizione che ha tappannaggio di diversi piloti nelle gare appunto nel circuito del Montmelos. Sono state gare interessanti ma per le posizioni che praticamente non contano perché appunto la vittoria per Ducati e per soprattutto Bautista in questo caso era scontata. Sapevamo che Barcellona era una pista effettivamente da Ducati visto il grande rettilineo e visto quanto fosse ancora più importante il passo di Bautista e quanto più il pilota spagnolo faceva la differenza in questo contesto. Per il resto abbiamo avuto appunto un race da Dioglu che fa tre podi in tre gare, tre secondi posti meglio ma di natura diversa e una Ducati che da una parte esulta dall'altra evidentemente si lecca un po' le ferite perché un po' i giri tolti per gli altri piloti hanno fatto la differenza in negativo, un po' si sono messe lotte a fratricide, infortuni e condizioni abbastanza sfortunate di pista. In ordine andremo a vedere gli episodi più significativi di gare per la verità abbastanza anonime, va detto però che comunque qualche spunto Barcellona l'ha lasciato, in particolare in gara 1 il grande contatto tra Axel Bassani e Michael Rinaldi. Rinaldi va detto che con la seconda Ducati ufficiale era predisposto per essere secondo facile in tutte le gare, invece per una balla o per l'altra da una parte l'hanno centrato in gara 1 e infatti Bassani è stato giustamente penalizzato, dall'altra perde diciamo del passo con delle condizioni non propriamente di caldo come in gara 1 e invece poi in gara 2 perde clamorosamente la volata con Topal d'Azzioglu ma ha dell'incredibile ma ne parleremo evidentemente con la classifica davanti. L'episodio che segna Rinaldi per il weekend di Barcellona è sicuramente comunque questo che è il highlight più importante, c'è una lotta importantissima comunque per il podio, avevamo tre Ducati nelle prime tre posizioni, un po' come nella famosa tripletta con appunto Redding, Rinaldi e appunto lo stesso Bassani ma parliamo di condizioni di bagnato in questo caso che invece in condizioni asciutte con il caldo le Ducati hanno fatto veramente quello che voleva, siamo in curva 10 del circuito del Montmelò, Bassani entra dopo una grande lotta con Rinaldi, partita in realtà qualche curva prima, Rinaldi va un po' esterno, Bassani si butta dentro all'interno, c'entra Rinaldi che finisce per le terre e dovrà ritirarsi, Bassani per questa manovra verrà penalizzato e di fatto butta via una tripletta Ducati che non dico era scontata ma comunque c'erano delle ottime possibilità per evidentemente concretizzarla ed è uno zero pesantissimo in ottica morale soprattutto di Rinaldi che poi dopo ovviamente quando piove Grandina in gara sprint quando inizia a leggermente più gerellare diciamo così perde del passo e finisce di fatto per le sue potenzialità after the music e invece in gara 2 perde praticamente 3 secondi in due giri facendo di superare da Toprak Razgatioglu in volata allo sprint all'ultima curva, segno di un cedimento delle gomme clamorose, Razgatioglu girava in 1.43 mentre Rinaldi in 1.45 alto tutto questo però non cambia quello che c'è solo davanti perché è ovvio che le lotte si erano concentrate per le posizioni del podio quindi seconda terza in alcuni casi addirittura anche fuori dal podio dalla quarta posizione in giù perché davanti questo signore qui ha fatto veramente quello che voleva è un pilota superiormente imbarazzante mi verrebbe da dire che toglie anche da certi punti di vista una parte di spettacolo almeno in questo contesto di Barcellona premetto io sono un tivolo della Ducati e sono contento che il team Aruba effettivamente vada a vincere il dominio però che sta impressionando appunto tutti è quello di Bautista un dominio che ricorda moltissimo quello del 2019 non quello dell'anno scorso perché l'anno scorso era leggermente più combattuto perché comunque si infilava Razgatioglu c'era un Jonathan Ray in stato di grazia in alcune gare anche se non evidentemente con il talento o comunque la moto di un tempo qui invece qualunque pista poniamo davanti a Bautista Bautista fa letteralmente quello che gli pare e vince con eoni di vantaggio sugli altri abbiamo visto in gara 1 e in gara 2 in gara sprint si è contenuto ma veramente questo inizio del primo terzo di campionato ricorda tantissimo quello del 2019 ci aggiungiamo però che Bautista è qui forte nel titolo dello scorso anno e con una mentalità di testa in più certo che se ogni gara fa tripletta il campionato per il mondiale è evidentemente finito perché il vantaggio già che vediamo di Alvaro Bautista è letteralmente impressionante per tre volte vincitore anche questa volta e per altri di fatto 72 punti 62 punti meglio andiamo a raggiungere un totale di 236 praticamente il massimo a disposizione mancano giustamente i 12 punti della gara sprint per via del ritiro ma il vantaggio è praticamente imbarazzante lo vediamo già da questa classifica per Bautista suona per tre volte la marcia reale ovviamente era un dominio scontato era la tripletta più scontata dell'anno visto che appunto Ducati e Bautista in particolare già dalle prove ha dimostrato di essere nettamente superiore basta vedere il tempo che ha fatto Bautista in qualificazione 1.42 contro banalmente Rasgatioglu a un secondo di distanza Rasgatioglu che però secondo me si merita il rider of the day a mani basse non di gara 1 non di gara 2 non della sprint ma del weekend perché questi secondi posti sono veramente grasso che cola per il pilota turco un autentico fuoriclasse mi verrebbe da dire perché con una moto inferiore soprattutto in questo contesto di Barcellona fare tre secondi posti dà evidentemente segno di quanto il pilota turco sia enormemente talentuoso e faccia quel campionato che fece Jonathan Rey nel famoso 2019 ovvero limitare i danni contro questo avvio arremmante di Bautista fare sempre podio e avere un ruolo di marcia invidiabile perché lo vediamo Rasgatioglu ha fatto sempre podi tranne 1-0 e ha vinto una gara il problema è che davanti ha uno che vince praticamente sempre e poco cambiano francamente i giri in meno che la Dorna ha di fatto tolto a Ducati la Ducati ha perso 250 giri solo che a Bautista non fa differenza fa differenza invece agli altri piloti che sono finiti chi più chi meno after the music i vari podi invece delle gare del weekend di Barcellona sono completati il primo da Jonathan Rey che è l'unico sprazzo decente della gara o meglio del weekend appunto di Barcellona del nord irlandese che appunto fa terzo in gara 1 viene di fatto ritiratosi in gara sprint per una caduta agli ultimi giri e fa quinto inerme in gara 2 il podio invece della sprint race è appannaggio di Andrea Locatelli sempre più una solida realtà di questo mondiale superbike sono d'accordissimo francamente con Edoardo Vercellesi e Max Temporali telecronisti di Sky della superbike che affermano che il team ufficiale Yamaha ha la coppia più forte del Circus e non è evidentemente un caso perché appunto è l'unica caso ufficiale che schiera due moto sul podio in tutto il weekend di Barcellona con Rasgatioglu e Locatelli il podio invece appunto di gara 3 se possiamo chiamarla così la completa Michael Rinaldi ma appunto Rinaldi deve essere più deluso che contento di questo terzo posto perché appunto il pilota Romagnolo era a un vantaggio considerevole in margine di sicurezza rispetto a Rasgatioglu nell'ultimo giro, negli ultimi due giri meglio alla fine un drop clamoroso delle gomme di Rinaldi lo relega in una insperata terza posizione ma insperata nel senso negativo Rinaldi poteva fare tranquillamente secondo e avrebbe potuto fare secondo se non avesse avuto questo drop improvviso delle gomme ed è un terzo posto che lascia molto la mare in bocca per comunque un pilota che torna a podio dopo tempo in memore non saliva sul podio Rinaldi dal tempo di Phillip Island però eravamo appunto a fine febbraio adesso siamo praticamente a metà maggio speriamo che comunque quel positivo podio comunque che ha fatto Rinaldi nel complesso possa risollevarlo e andare evidentemente a recuperare i galloni di pilota titolare comunque per l'anno prossimo perché sappiamo sempre come Rinaldi sia sempre in discussione è vero che dopo il piccolo alterco diciamo così tra Rinaldi e Bassani Bassani è stato di fatto relegato after the music ha fatto delle prestazioni in colore rispetto al potenziale e invece Rinaldi complice un po' la pioggia in gara 2 ma lì è sfortuna un po' questo calo delle gomme improvviso ha fatto delle gare che però lasciano più pareri negativi che altro insomma la gara di Misano sarà un secondo me cartina di tornasole per quanto riguarda Rinaldi perché è un contesto che conosce ci ha già vinto due volte è un contesto gradito vediamo come si comporterà appunto il pilota romagnolo per una superbike che appunto è sempre più indirizzata verso Alvaro Bautista per il resto abbiamo tanto equilibrio abbiamo una Kawasaki che comunque fa quello che può e piazza sia Lowes sia Ray per quanto possibile nelle prime cinque posizioni abbiamo degli indipendenti che comunque risorgono e fanno delle buonissime prestazioni il migliore degli indipendenti è Dominic Gerter altro pilota che secondo me si merita il premio di rider del giorno se volessimo usare il termine che uso anche negli altri racing podcast perché comunque è sempre stato il migliore degli indipendenti un quinto incredibile in gara 1 uno sesto in gara sprint e ottavo in gara 2 per quello che ricordo viene in superbike come evidentemente il dominatore delle ultime due stagioni del super sport gli altri italiani abbiamo già detto per quanto riguarda quelli di testa approfondimento su Danilo Petrucci purtroppo squalificato in gara 1 per non essersi presentato alla pesa con tutto l'occorrente consentito e aveva fatto comunque una buona prestazione in top 10 si attesta più o meno in queste posizioni anche nella gara sprint e nella gara lunga peraltro Petrucci sarà il sostituto di Enea Bastiani a Le Mans che appunto sarà la gara di Maggi P che si correrà settimana prossima è ovviamente comparso anche in questa competizione anche Lorenzo Baldassardi che non c'entra i punti si ritira quando è in 10esima posizione in gara 2 due diciestesimi posti invece per quanto riguarda ovviamente gara 1 e gara sprint non è invece partito Gabriele Ruiu che doveva essere iscritto anche in questo caso come wild card rispetto ovviamente anche agli altri piloti che invece sono regolari per il resto abbiamo di fatto i parametri che si confermano con appunto Ducati soprattutto in particolare Bautista per il resto grandissima lotta la Yamaha sembra evidentemente l'ufficiale più solida appunto come squadra Onde e BMW sono sempre un pochino indietro abbiamo avuto comunque un exploit di Iker Lecuona che è arrivato quarto nella gara sprint ma sappiamo come gli ultimi giri della gara sprint siano stati evidentemente connessi dalla pioggia vedremo se a Misano pista più tecnica e meno veloce di Barcellona ci sarà un po' più di equilibrio ci sarà un vincitore diverso da Bautista che appunto tolta gara sprint d'Indonesia ha un filato di vittorie consecutive veramente imbarazzante un dominio che neanche Verstappen in questa stagione in Formula 1 o meglio soprattutto la stagione scorsa ma anche all'inizio di quest'anno vedremo cosa succederà nel weekend tra 2, 3 e 4 giugno e lì ricordo ci sarà il vlog dal vivo perché sarò evidentemente tutto il weekend al circuito come ovviamente spettatore pagante nella curva del carro per vedere i mitici piloti del Superbike e categoria di contorno categoria di contorno di cui andiamo a parlare nella seconda parte del Racing Podcast a partire dalla Supersport due vincitori diversi nelle due gare del weekend spagnolo il primo match lo vince Nicolo Bulega che comunque si conferma anche qui leader di classifica prima della gara 2 che in realtà, spoiler, non vincerà Bulega il pilota di Montecchio Emilia era tre vittorie consecutive c'è invece ancora una volta una gioia per una squadra italiana ma non è la Ducati ma è invece l'MV Augusta il team di Andrea Quadranti che compie una clamorosa doppietta che non succedeva dal 2015 quindi andiamo indietro veramente di tantissimo tempo parliamo di otto anni trionfa un Sofoglu in Supersport dopo Kenan infatti è il nipote perché Bahat e Sofoglu c'entrano la prima vittoria di carriera in Supersport al termine di una gara clamorosa entrambe le gare in realtà della classe intermedia sono state molto belle con delle lotte senza dubbi di colpi sia per il podio sia per quanto riguarda la vittoria alla fine la classifica è più corta e più interessante che stata quella della Superbike ma quello che è successo oggi a Barcellona perché a Sofoglu ha vinto gara 2 che si è corso domenica a pranzo è evidentemente qualcosa di storico prima vittoria di carriera per il nipote del re Kenan Sofoglu che ha vinto 5 titoli del mondo in Supersport è di fatto un grande rilancio in classifica sia per lui sia per il suo compagno di squadra Marshall Schröter che fa evidentemente un altro podio dopo quello di gara 1 e infatti questa è la classifica dopo la gara 2 di Barcellona Bulega è sempre primo ma purtroppo ha un problema tecnico in gara 2 deve ritirarsi sono 152 punti per il pilota italiano 119 invece per quanto riguarda Schröter Manzi invece capitalizza per quanto può l'assenza di Bulega in gara 2 e fa un importantissimo terzo posto 116 punti per il numero 62 per una classifica che comunque è molto interessante in attesa anche qui del round di Misano dunque ricapitolando Bulega vince gara 1 imprimendo comunque alla fine un buonissimo passo e allungando i giri finali lasciando gli altri votare per il podio e per lui suona il canto degli italiani per quanto riguarda il podio invece completato da Marcel Schröter terzo podio con un esecutivo quantomeno in due eventi consecutivi per quanto riguarda il tedesco che comunque è di fatto in questo momento l'antibulega è un pilota che comunque può puntare secondo me in alto terza posizione invece appunto per quel Bahat in Sofoglu di qui sopra segno che evidentemente a Barcellona si è trovato non alla grande di più con questa vittoria peraltro per il quale suona la marcia dell'indipendenza Lino Turco Sofoglu è in settima posizione assoluta in questo campionato del mondo Schröter completa il podio in seconda posizione per questa clamorosa doppietta MVA questa straordinaria e terzo è Stefano Manzi che appunto si è in terza posizione assoluta solitaria in attesa appunto che il 2-3-4 giugno si corra ovviamente a Misano Adriatico chiudiamo invece con la Supersport 300 che invece a differenza della Supersport è al secondo round della stagione per inciso la gara della Supersport 300 quella della domenica gara 2 è finita da pochissimo quindi non ci sono ancora i risultati aggiornati ha vinto comunque Mirko Gennai pilota italiano alla seconda vittoria in carriera in questa classe entrante e anche per lui suona il canto degli italiani in seconda posizione si è classificato Matteo Vannucci in seconda posizione appunto al tema di una grandiosa volata di fatto arrivata allo sprint vinta da Gennai per qualche millesimo terzo è arrivato Jeffrey Buis che ha avuto invece comunque l'onore di vincere gara 1 per il quale ha suonato Helt Wilhelmus l'inno olandese Jeffrey Buis non è comunque l'ultimo dei fermoni in questa categoria era il pilota regnante campione del mondo del 2020 ha fatto due anni in Super Sport 300 l'anno scorso era in Super Sport 600 ma ha fatto veramente fatica è tornato indietro e alla terza gara ritorna alla vittoria in seconda posizione è arrivato Samuel Di Sorà che si è ritirato però in gara 2 per una caduta e comunque insieme a Peter Svobo è uno dei piloti più interessanti evidentemente di questa categoria oltre all'italiano di qui sopra Gennai e Vannucci Gennai che comunque ha fatto un grande weekend di Barcellona perché oltre alla vittoria di gara 2 è arrivato a podio in gara 1 in una categoria veramente clamorosa perché parliamo di 32 piloti con moto pressoché identiche con gare veramente di macello che neanche la moto 3 dei prototipi sono gare veramente dove hai sempre 20 piloti 15 in lotta per la vittoria con carenate sorpassi dal primo all'ultimo giro sono veramente categorie macello che comunque daranno spettacolo anche loro a Misano il 2 3 e 4 giugno vi lascio con la classifica della superbike con il dominio incontrastato sempre più di Alvaro Bautista con 236 punti siamo praticamente alle 70 lunghizze di vantaggio rispetto al primo seguitore Topra grazie a Tiogo che ha un ruolo di marcia clamoroso ma al momento nulla può rispetto a questo Bautista dominante ci si rivede a Misano il 2 3 e 4 giugno con il vlog dal vivo e anche qualche sorpresa qui e lì ma ovviamente ne parleremo invece a inizio giugno ci risentiamo invece con il Racing Podcast per quanto riguarda la settimana prossima parleremo lunedì evidentemente di Miami che corre stasera alle 9 e mezza quindi doppio Racing Podcast anche se del giorno dopo e poi ovviamente con la MotoGP in Francia in attesa anche di tornare con il meraviglioso gioco del baseball il saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo a un prossimo video